Caro lettore, buongiorno. Sono qui per segnalarti due eventi importanti che si terranno nei prossimi giorni a Verona. Il primo è organizzato da Panteon Verona Network assieme all'Associazione Verona Network. Da tempo siamo impegnati sul territorio promuovendo eventi che interessino la città e che diano possibilità e opportunità di sviluppo in particolare ai giovani. E proprio il 19 di ottobre prossimo, giovedì alle ore 18, nella sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verona in via Santa Teresa 12, si terrà un focus importantissimo sull'alternanza scuola-lavoro. La novità resa permanente dalla legge 107 del 2015 e obbligatorio per tutti gli studenti italiani già dallo scorso anno, sarà proprio il tema di questa tavola rotonda a cui parteciperanno oltre al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Alessia Canteri e al Senatore Stefano Bertacco, Assessore al Comune di Verona proprio dell'istruzione, anche Laura Parenti del provveditorato agli studi, Mario Bonini coordinatore dei dirigenti scolastici, Giuseppe Riello il Presidente della Camera di Commercio di Verona e alcuni dirigenti tra cui Umberto Fasol, Preside delle Scuole Stimate. Ci sarà anche per una case history interessante Riccardo Bertagnoli, Presidente di Verona Fab Lab. Ricordo quindi questo appuntamento 19 ottobre, segnatevelo sull'agenda ore 18 presso l'Ordine degli Ingegneri.